Tutto è l'intimo. Scuola del cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, a cura di VB, Dali. Certamente vi sarete soffermati qualche volta a meditare su quanta strada assieme abbiamo fatta. Quanto, fortunatamente per voi, sia stato benigno il destino nel concedere un così lungo contatto fra noi e voi. Benigno anche con noi, certamente, perché ci ha dato la possibilità di comunicare con voi, nostri fratelli, in altra dimensione. Quello che noi, liberi dai veicoli più densi, riusciamo a captare, a percepire, a sentire. E quanto, questo tempo trascorso assieme, sia stato proficuo di verità. Sento l'obbligo di farvi capire anch'io quanto importante sia il nuovo insegnamento. Non importante perché occupa di più l'intelletto di quanto lo abbia occupato per le verità che vi sono state dette in precedenza. Non importante per questo. Ma importante perché più formativo. Tutto in genere, l'insegnamento è importante. Ve ne abbiamo mostrati vari aspetti. In primo tempo l'aspetto mistico. E poi l'aspetto dell'intimo nostro. E quanto ancora questo sia importante e attuale. Questa sera stessa avete avuto modo di constatare. E poi l'importanza dell'insegnamento che riguarda la conoscenza. Ma il fine vero e reale di tutti questi insegnamenti, di tutte queste prospettive della verità, di tutte queste realtà, che sono un'unica realtà, è la vostra formazione interiore. Perché questa è quella sola e quanto tempo è che, ve lo ripetiamo, ha importanza. Come vi ha detto il fratello Kempis, se tutto quanto vi circonda, comprese le creature che sono attorno a voi e che hanno sì tanta e larga parte di influenza nella vostra vita, fosse e fossero una simulazione della realtà, fossero spettri, fossero parvenze reali di qualcosa inesistente. Ebbene, figli e fratelli, voi ugualmente seguireste uno sviluppo del sentire, una evoluzione perché importante è l'intimo vostro. Non vi insegniamo l'egoismo dicendo questo, dicendo che è importante l'intimo vostro. Non vi insegniamo a dare importanza alla vostra persona, ma cerchiamo di svelarvi qual è la realtà. Anche l'insegnamento è importante solo nei riguardi e nei confronti dell'intimo vostro. E' importante aiutare le creature, ma questa importanza non va misurata con il metro del vantaggio e del beneficio che si riesce ad arrecare alle creature aiutate, ma va misurata con la schiettezza del sentire che ci muove. E secondo questa misurazione, non prendete queste affermazioni, si intende per un vostro comodo modo di essere altruisti. E secondo questa misurazione è più importante un pensiero buono rivolto ai nostri simili, a volte, che una grande elargizione di denaro fatta per crescere il rispetto e la stima di se stessi. Continua Grazie